Ciao a tutti e buona giornata. Allora, oggi parleremo di un po' di cose accadute in quel di Milano perché ci sono state diverse, diversi video, insomma, e anche una live, parleremo di una live in particolare di Davide. E perché ciò? Perché io sono masochista, perché, insomma, mi vado a guardare tutte queste cosine, però sono anche sadica e quindi voglio, insomma, che condividiamo queste cose interessantissime e quindi, insomma, come si suol dire, malcomune mezzo gaudio. Allora, andiamo a vedere. Innanzitutto cominciamo con qualcosa di soft, nel senso il video Mukbang di Davide dal titolo Mangio sano ma molto gustoso. Ce lo troviamo seduto a tavola, porta una t-shirt di Red Bull, perché? Perché quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a mangiare. Sulla tavola non c'è la tovaglia, non c'è neanche il bicchiere, come al solito, però c'è un tovagliolino e c'è la bottiglia d'acqua, la classica bottiglia d'acqua. Ci spiega che Chiara non mangerà con lui perché sta praticamente preparando i video da caricare e comunque già le ha portato questa favolosa cena anche a lei. E di cosa si compone questa cena? Ci mostra il piatto e vediamo che c'è una cosa, insomma, color verde che dovrebbero essere gli spinaci e poi ci sono due tranci di qualcosa che varia, insomma, dal color beige più chiaro a quello un po' più scuro. E cosa sono queste cose? Sono due tranci di Bonrol Aya, che lui praticamente ha preso e ha schiaffato nel piatto all'andocoyo-coyo, praticamente. Come al solito sembra più un rancio, insomma, da militari che una cena, insomma. In ogni caso comincia a gustare questa cena, ovviamente si sentono rumori di masticazione, ci informa che gli spinaci sono troppo acquosi e ci dice che la prossima volta provvederà a scolarli perché, in effetti, questi Bonrol, insomma, galleggiano un po' sull'acqua degli spinaci. Ovviamente ci informa sul tempo, ci dice che la giornata è piovosa e quindi lui dice niente grigliato. Però sicuramente la faranno un'altra volta. Ci dice anche che hanno fatto una bella spesa da Lidl, che mentre la moglie era faccendata a questo scopo, praticamente, a fare la spesa, lui andava guardando gli accessori per la macchina perché ci disse in un altro video che lui, più che soldi per la macchina, avrebbe speso soldi per gli optional. Cioè, se avesse acquistato una macchina nuova, avrebbe speso molti più soldi per gli optional perché lui, la macchina, piace full optional. E quindi lui, mentre Chiara faceva la spesa, andava a guardare queste cose per la macchina, tipo i tappetini. Ogni tanto dice che il piatto che sta mangiando è una bontà. Ci dice anche che la moglie sa cucinare qualsiasi piatto trasformandolo in una bontà. E in effetti non si può che dargli ragione perché non so se ricordate il famoso risotto allo zafferano e ai funghi in scatola che fece tempo fa a Chiara, che insomma, soltanto a guardarlo, già faceva venire l'acquolina in bocca. Comunque, Davide chiude questo mukbang con un consiglio. E cioè, il bon roll che loro hanno acquistato va bene per tre persone. Soprattutto se si fanno i tranci come li ha fatti lui, insomma, che sono abbastanza grandicelli. Però, se siete a cena con 4-5 persone, vi consiglio di acquistarne due. E con questo prezioso consiglio si chiude il mukbang di Davide. E passiamo al video di Chiara intitolato Sono stata malissimo, non sto bene. Lì è seduta sul letto, ci dice che ha mal di gola, che ha avuto la febbre a 37,2 per poi passare a 37,8 e a 38,5 nella notte. Dice che praticamente poi la mattina dopo ha avuto 37,9 e poi finalmente più niente. Però, insomma, che le fa male questa gola. Ci rende noto che la madre e Davide sono usciti per ritirare il libretto della macchina. Dice che la madre ha detto che la macchina è comoda. E in effetti è meglio che lo dice lei ciò che ha detto la mamma perché l'ultima volta che le ha fatto delle domande la madre è stata un attimino criptica dicendo anche che secondo lei la macchina poteva essere anche brutta. In ogni caso ci informa anche che si sta vedendo la seconda stagione di una serie tv. Insomma, ogni tanto sapete che parla di queste serie tv. Dice che non ha fatto video perché si sentiva male, tanto che non ha montato neanche video del marito. Dice che il suo non è un canale di dissing e il fatto che ha tolto molte live che monetizzavano lo dimostra. Poi ci dice che ha mangiato del riso in bianco e che forse lo rimangerà anche la sera. Che ha avuto i sintomi simili a quelli dell'australiana ma non proprio come l'australiana. Insomma, simili ma diversi. Questo l'ho aggiunto io. Comunque lei ha pregato che non fosse l'australiana perché insomma altrimenti con i sintomi dell'australiana sarebbe sentita peggio. Poi cambia l'inquadratura e c'è un pacco, Bonprix. Lei aveva detto precedentemente che le era arrivato questo pacco. Inquadra appunto questa cosa, questo pacco che le è arrivato. E ci sono diverse cose tra cui ci fa vedere un lenzuolo con il portalenzuolo che le ha acquistato a quanto dice perché il portalenzuolo le sembrava una cosa abbastanza pratica. Io le consiglierei quando lava e piega le lenzuola di metterle sia il lenzuolo di sotto che il lenzuolo di sopra che una federa. Nell'altra federa rimanente, dentro, poi piegare quello che rimane della federa che è all'esterno e mettere tutto nel cassettone o nell'armadio. In modo tale che non ha bisogno di acquistare portalenzuola e in più si ritrova già tutte le lenzuola che le occorrono per fare il cambio. Molto più pratico, meno dispendioso. Insomma, in questo pacco ci sono comunque tante cosine che ci farà vedere in seguito, però ci tiene a farci vedere una cosa bellissima che a lei piace tanto perché è diversa da tutte quelle che si usano nelle altre case. Ci fa vedere questa scatola e tira fuori praticamente una cosa che sembra un tagliere di legno di bambù, però è fatta con un taglio a spirale. E cos'è? Allora, praticamente è un portafrutta che quando si alza la parte superiore appunto diventa questa cosa, questo oggetto, un portafrutta, però a lei piace proprio perché secondo lei non è presente in tutte le case, cioè è una cosa nuova, è una cosa spiziosa. Cambia inquadratura e di nuovo in camera da letto, dice che le sta venendo mal di testa, che mangerà il riso, mi diventerà una cinesina, ci informa che comunque ha fame, perché insomma mangiando soltanto riso è anche normale, poi dipende insomma anche dalle quantità. In ogni caso ci saluta e ciao anche a questo vlog. E passiamo alla live di Davide dal titolo Buon pomeriggio, che è una live un po' particolare. Perché? Intanto ci dice che Chiara nella notte ha avuto 38 e mezzo di febbre, insomma ci informa anche lui di questa cosa, ma l'avevamo già sentita da Chiara, ma che comunque gli è passata. A un certo punto entra la loro moderatrice più zelante e scrive in chat che è stata attaccata da una compagnia di circensi. Allora, a me è sembrato, perché insomma ho assistito a questo attacco brutto 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 che le è stato fatto, che anche lei, anche questa moderatrice zelante potrebbe far parte di questa categoria di lavoratori, cioè dei circensi. Perché? Perché ha fatto dei salti mortali assurdi per nascondere determinate cose, una cosa che poi insomma è stata messa in luce da Vodka, nel senso che lei comunque era fidanzata con una persona, lei aveva detto di no, di portare le prove e poi Vodka queste prove le ha portate e quindi salti mortali per questo, ma insomma anche nel ruolo, come dire, della pagliaccia, insomma la vedrei anche bene. Perché? Perché è stata lei a cominciare ad attaccare questa persona, gli ha dato anche del minorato e questa persona non ha fatto altro che risponderle a tono. Comunque, quando questa moderatrice zelante dice che lei è attaccata, Luciana risponde e in un certo senso mi lascia un po' perplessa, perché cosa le dice? Le dice che bisogna essere obiettivi e chiede a Elena di esporre prima quello che ha detto lei. A questo punto Davide la difende, dice che la povera Elena non fa nulla di male e io penso che in questo punto Elena abbia gongolato. Comunque, Elena ammette di aver usato una parola eccessiva col tizio, fra virgolette, ma dice che non c'era bisogno di tirare in ballo persone che non fanno più parte della sua vita, come ha fatto appunto il tizio, fra virgolette. Luciana le dice, vedi cara? E le dice anche che è esagerata e che quindi se ne va cercando e obiettivamente aggiunge che fa un po' come lei, nel senso che va sotto il canale di scuolo a commentare e poi comunque se le rispondono male se lo deve anche aspettare. In chat dicono a questa moderatrice Zelande che gli haters non sanno cosa fare e quando appunto non sanno cosa fare si attaccano al privato e Davide dice che loro, cioè Davide, Chiara e tutto il loro entourage, sono brave persone, ma è logico che se poi viene attaccato il privato diventi una bestia. E Luciana gli risponde, ma visto che lo sai che lo fanno apposta, perché te la prendi? La moderatrice Zelande dice che queste persone vanno lasciate blaterare e che questa schifezza vivente, riferito sempre a vodka, attacca Chiara e Davide perché sa di valer meno di un loro pelo sull'alluce. E dopo il chiagnimento che ha fatto, insomma, per tutta, quasi tutta la durata della live in chat, questa moderatrice Zelande aggiunge anche la sviolinata e meno male poi che i circensi che fanno ridere sono i canali di scuolo. Comunque Davide capisce male, come al solito, e pensa che Elena sia andata in loro difesa e che per questo l'hanno attaccata. Si parla del fatto di andare sotto le live dei nemici, fra virgolette, o a scrivere messaggi nella community, appunto, di queste persone cattive, 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 e Luciana dice che lei va a vedere anche le live dei cosiddetti nemici e che se le piacciono le cose che vengono dette, lei lascia anche i like e a questo punto Davide la guarda interdetto. Nasce una discussione su questo argomento e Luciana dice che, anche se alle volte Chiara e Davide l'hanno massacrata, poi lei, alla fine, ha messo sempre il like alle loro live. Qualcuno in chat dice che la moderatrice Zelande ha ragione perché gli omosessuali, per un periodo di tempo, si sono trasmessi il virus HIV. E questo perché lo dice? Perché questa moderatrice Zelande, nella sua community, dopo la discussione avuta con Vodka, ha scritto un messaggio che vi vado a leggere. Come dice la dottoressa De Mari, certi stili di vita predispongono a determinate malattie più di altri. Cito da msdmanuals.com In assenza di trattamento, il terzo stadio della sifilide può danneggiare la orta, il cervello, cervello scritto in grande e chi legge potrebbe capire che lei pensa che Vodka abbia già il cervello danneggiato, insomma per come lo scrive io ho percepito quello, il midollo spinale e altri organi. Se non vi controllate regolarmente potreste ridurve così. E così come, vi chiederete? Così perché sotto c'è uno screen di un messaggio che Vodka le ha dato, diciamo le ha scritto, quando era in live, in una live, nella mia live. E Vodka scriveva Usare minorato come offesa quando tu stavi con un disabile alto 70 cm è alquanto meschino. E lei a questo punto ha scritto questo messaggio nella community dando a Vodka del decerebrato perché? Perché probabilmente ha la sifilide. Io questa cosa la chiuderei qui perché insomma si commenta da sola. Comunque quando questa persona scrive nella chat di Davide che la moderatrice Zelante ha ragione a dire appunto che ci sono state malattie legate all'omosessualità Luciana chiede chi ha detto questa cosa, Davide le dice il nome e lei le chiede ma tu veramente pensi questo? Cioè sì, anche Luciana praticamente ha avuto questo moto di indignazione. Davide comunque dice a questa moderatrice che i canali di scolo vanno lasciati indesiderati e a questo punto questa moderatrice Zelante, anzi Zelantissima, dice che ha sbagliato ad entrare e io a questo punto, visto che la live dove è accaduto tutto questo era la mia e quindi era mio il canale, io visto che a questo punto sicuramente non ci rivedremo più perché lei ha preso questa decisione, io la saluto caramente e a mai più rivederci. Davide dice che quando lui fa i video sfoghi passa da vittima, insomma lo fa da vittima perché lui sa di non far del male a nessuno, da notare che poco prima aveva detto che gli haters sono degli stupidi e anzi che aveva detto stupidi per non dire di peggio quindi lui non dice mai niente, lui non fa mai niente e quindi è sempre vittima e dice che fa i video sfoghi appunto per sfogarsi ma anche perché ci monetizza e io direi soprattutto perché ci monetizza. Dicono che gli haters vanno non calcolati, non devono essere calcolati e Luciana dice che queste persone, quindi i canali di scolo e chi gli ruota attorno sono ottusi perché non capiscono. Ed io a questo punto non so se sta parlando realmente dei canali di scolo se sta parlando di loro stessi o se sta parlando di questa moderatrice zelante. Luciana poi ci fa presente una sua teoria e cioè che la colpa di quello che succede del fatto che i vari youtubers si possano incavolare l'una con l'altra di chi è? È dell'utenza. Perché? Perché l'utenza va nelle live, va sotto ai video, nella community e quant'altro di persone che possono essere haters, che possono essere nemici, fra virgolette o quant'altro e poi riportano le cose a questo o a quel youtuber scatenando appunto delle incomprensioni o anche delle diatribe, insomma, queste cose che poi portano al dissing, ai video sfogo, alle live buasta o a quant'altro. Quindi tutti gli utenti fanno schifo, soltanto i loro no ovviamente. Davide a questo punto, imbeccato da appunto una sua utente, dice che tutti nella vita hanno un problema e che non si deve andare dietro agli scarti della società che sarebbero sempre gli haters e i canali di scolo. A questo punto cambiano discorso, parlano della giornata, che sono usciti, che sono andati a comprare il riso e insomma chiudono qui dopo aver parlato un altro po' di cose che sinceramente non mi interessavano. E questo era tutto ciò che è accaduto in quel di Milano. In tutto ciò si aspetta la live buasta senza urli perché ormai è così, lei tenta di stare calma perché altrimenti potrebbero demonetizzare la live, quindi è una live buasta con toni tranquilli per quanto possibile dove Chiara difende la sua moderatrice Zelante e si scaglia contro il nemico Vodka. Quindi aspettiamo, se non sarà oggi potrebbe essere domani, ma secondo me prima o poi questa live ce la troveremo insomma. Comunque questo era tutto, io vi ringrazio per avermi ascoltata, come sempre vi mando un bacio e anche un abbraccio. Se volete iscrivetevi al canale, se volete lasciatemi un like, se volete lasciatemi dei commenti. Ciao a tutti e buona giornata. Un bacio.